ripartiamo dalla voce il podcast della federazione italiana teatro amatori la magia delle voci caro amico ti scrivo così mi distraggo un po e siccome sei molto lontano più forte ti scriverò da quando sei partito c'è una grande novità l'anno vecchio è finito oramai ma qualcosa ancora qui non va si esce poco la sera compreso quando è festa e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra e si sta senza parlare per intere settimane e quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione e tutti quanti stiamo già aspettando sarà tre volte natale e festa tutto il giorno ogni cristo scenderà dalla croce anche gli uccelli faranno ritorno ci sarà da mangiare e luce tutto l'anno anche i muti potranno parlare mentre i sordi già lo fanno e si farà l'amore ognuno come gli va anche i preti potranno sposarsi ma soltanto ad una certa età e senza grandi disturbi qualcuno sparirà saranno forse i troppo furbi e i cretini di ogni età vedi caro amico cosa ti scrivo e ti dico e come sono contento di essere qui in questo momento vedi 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 caro amico cosa si deve inventare per poter riderci sopra per continuare a sperare e se quest'anno poi passasse in un istante vedi amico mio come diventa importante che in questo istante ci sia anch'io l'anno che sta arrivando tra un anno passerà io mi sto preparando e questa è la novità